Per creare una pagina con PHP che legge un database è necessario avere un sistema che abbia sia il database MySQL soprattutto perché se si vuole inserire tramite una form i dati è necessario avere MySQL è la soluzione più semplice e anche e soprattutto più sicura se non si ha un hosting, quindi un servizio in cloud si può utilizzare questo software XAMPP che è la cronica di Windows IP Apache MySQL PHP e quindi farlo partire e qua si vede che il modulo Apache MySQL sono partiti e quindi iniziamo a cercare la prima cosa è organizzare il database per organizzare il database e inserirlo dentro a PHP bisogna vedere un attimo come è questo il database vedo qua che c'è un numero e la prima cosa è che i nomi devono essere tutti i nostri nomi delle colonne e poi qua non ci deve essere lo spazio ho visto che qua anche la partita IVA sembra un numero di solita partita IVA è un testo e quindi si salva quindi si va in struttura e si incominciano a modificare questi campi perchè è più semplice farlo qua qua ci mettiamo qui IVA e qui importo la partita IVA la partita IVA deve essere un testo ok e si salva qua se non sbaglio hanno tutti i numeri degli 0 davanti ok questo è da... questo è pronto per essere caricato non ho fatto salva numero non mi sta salvando perchè probabilmente non è abilitata la modifica numero dobbiamo salvare ok non so perchè non mi continuo a tenere maiuscoli adesso andiamo magari a cercare qualche alias numerazione tematica boh comunque allora lo facciamo dopo in questa tabella bisogna prenderla e portarla in excel toglia next tab lezione e poi una volta in excel bisogna ehm si può andare nel pannello di controllo quindi PHP MyAdmin un file qua creiamo un nuovo database eserfizio 0.1 crea e in questo eserfizio 0.1 importiamo vediamo se si riesce a importare un file excel non lo riconosce quindi io so che ehm l'excel ehm PHP MyAdmin importa gli open document spreadsheet quindi andiamo ad aprire questo ehm fatture file con ehm e lo trasformiamo in un 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 file ods file un po' magari possiamo già cambiarlo ditta ok qua che facile residenza domicili costa iva e import ok file salvato il nome in formato ods file si chiedi andiamo a scegliere questo file in piazza prima lì adesso riconosce che è un'open document spreadsheet e facciamo esegi andiamo a vedere che questa nuova tabella è stata importata correttamente anche il campo IVA e adesso procediamo a a creare la prima pagina html dove si mette la pagina html in un in un progetto xamp 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 in htt docs qui qui creiamo una cartella esegs 0 1 e creiamo il primo file index.php e non index.html questo file index.html esegs isegs 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 code apriamo un editor di testo qui si deve far tutto con degli editor di testo open folder esegs isegs 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 1 questa è la cartella e qui troviamo il nostro file index facciamo subito un testo apriamo il php il tag per il php e scriviamo ecco ciao salve andiamo a vedere subito questa pagina è localhost esercizio 01 e dovrebbe esserci ciao questo è il primo settaggio la prima configurazione per partire con tutto quello che è necessario fare quindi adesso con questa pagina php iniziamo subito a creare una connessione al database a questa tabella mysql cerchiamo in google mysql connect andiamo a vedere subito come si fa a connettere ok dovrebbe essere una cosa di questo genere andiamo a metterla nel file php mettiamo anche il link dove è stata trovata questa risorsa qua mysql connect internet 127001 che è l'host l'utente è root di solito queste informazioni vengono rilasciate dal provider quindi user la password la password in xampp non è settata nella password e il database è chiamato esercizio 01 e la tabella che comunque serve dopo è fatture esercizio 01 qua c'è il test se non funzionasse il link success a proper connection e poi alla fine si chiude la connessione salviamo questo file andiamo subito nel browser a vedere cosa è cambiato e quindi la connessione è stata abilitata adesso procediamo prima di chiudere la connessione mysql a fare la prima query quindi mysql select andiamo qua anche questo è un sito utile per fare questo genere di esercizi tutta questa parte qua l'abbiamo già creata e andiamo a creare la nuova query quindi sql select dobbiamo creare la connessione qua la chiama link ma noi la chiamiamo con is con ok così siamo allineati alla nuova risorsa che è questa select iniziamo a fare select all quindi con l'asterisco from la tabella che si chiama abbiamo detto fatture lui prende la connessione se nella connessione ci sono più record incomincia a stampare incominciamo a fare stampare la prima colonna perché qua riprende tutte le colonne dell'esercizio quindi noi andiamo prima a prendere il numero, la ditta e la residenza quindi row numero 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 indirizzo anche qua mettiamo indirizzo e poi e poi la residenza giusto per iniziare a visualizzare qualcosa dal dal database qua incomincia a ho scritto male indirizzo incomincia a dare dei errori il fatto di avere il PHP spiega molto gli errori che vengono fatti probabilmente qua mi dice non è definito l'index indirizzo alla linea 28 probabilmente l'ho scritto male infatti è domicilio non è indirizzo andiamo a mettere residenza domicilio si ho invertito domicilio e qui domicilio ok quindi questo lui ha incominciato a mettere tutti questi campi che dopo mettiamo in una tabella e poi dice ok non c'è una variabile link alla riga 35 perchè noi abbiamo cambiato la variabile link con con poi ci mettiamo un togliamo le informazioni di eco success in teoria la prima pagina con l'elenco delle informazioni contenute nella tabella è fatta nella seconda pagina quindi questo è lo stesso di avere index.php è la stessa identica cosa ci mettiamo andiamo a creare una nuova pagina con file new file lo chiamiamo save as esercizio 1 lo chiamiamo pagina page 02 php salva andiamo a creare un link qua sotto a href uguale page2 inset form a qua ci vuole un echo e ciò possiamo mettere le apostrofi e fare così e nella stessa nell'altra pagina andiamo a dirgli che possiamo anche tornare indietro non alla page2 ma a index.php e la chiamiamo home par page2.php ok quindi adesso io ho la pagina 1 con insert form e la pagina 2 page2.php page02.php ok e la page2 che torna alla home nella page2 andiamo a inserire un form andiamo a trovare un'altra risorsa php form to msql insert data server connessione ok msql ok msql 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 andiamo a trovare un'altra risorsa msql cerchiamo direttamente php form insert chrome data usi msql no facciamo php form post no facciamo php che mi permette di inviare una dei dati alla ad una pagina lui va a richiamare get php ok andiamo a creare la pagina 1 cioè la pagina 2 con questo form qua possiamo interrompere il php riprendolo qua sotto facciamo un po' di indentazione body form name un po' subito andiamo a vedere come come è venuta quindi io adesso ho un name un'email e l'invia data lui nell'esercizio nel tutorial mi dice ok però devi avere anche una pagina wacon get .php andiamo a creare questo nuovo file nuovo file save c'alla in questo nuovo file lui riceverà delle informazioni tramite il get che vengono passate tramite il form che poi vedremo come utilizzarle quindi adesso io ho questa pagina scrivo name aaa email bbb faccio invia lui mi ritorna in una pagina con queste informazioni qua sopra che possono essere utilizzate per essere inserite in mysql incominciamo a dirgli quali sono i campi che avevamo scelto gli input che vengono messi nel form abbiamo detto che prendiamo il numero che però il numero lo mettiamo in automatico quindi andiamo prima in php myadmin diciamo che il numero è un contatore andiamo in struttura numero proviamo a modificarlo in questo modo qua numero z salva e andiamo ad aggiungere un campo che si chiama numero che invece di essere int è un un serial indice primario facciamo esegui e facciamo salva andiamo a vedere nella fattura se questo id numerico corrisponde a quel e andiamo adesso a cancellare numero z perchè non serve più perchè questo di solito è un contatore di solito chiamato anche identificativo quindi il numero adesso non ci serve nel form camp loro possiamo riprendere però quello che ci interessa è incominciare a seguire il domicilio e la residenza in php il domicilio è Milano una città e la residenza è la via qua andiamo ad inserire anche tutti i dati qua quindi invece di name scriviamo domicilio oppure città però il nome del campo è domicilio invece di mail ci mettiamo residenza e il nome è residenza 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 oh via input submit e qua andiamo a intercettare in welcome get si andiamo a scrivere che il domicilio è questo domicilio via è get domicilio che il get questo get domicilio deve essere esattamente questo nome se io scrivo uno qua deve essere uno anche qua e la residenza invece br tapper a capo deve essere qua la stessa cosa la residenza qua è la residenza che c'è in questo name l'identiamo e andiamo a provarlo quindi torniamo indietro facciamo un aggiorno residenza milano cioè domicilio milano via roma facciamo invia lui prende correttamente domicilio e milano qua incominciamo a metterci un tasto che torna indietro possiamo scrivere torna inserisci nuovo nuovo form oppure torna alla home qua ci mettiamo anche a loro il br così va a capo qua c'è un br anche qua anzi mettiamo un hr che sta per il la linea di separazione inserisci nuovo form lui torna a questa pagina oppure inserisci torna alla home e questo è tutto il passaggio logico che si deve fare una volta qua torniamo in Milano via Trieste quindi adesso andiamo a fare la modifica alla pagina get qua ci scriviamo ok form questa qua quando andiamo a fare un vediamo se ho messo ht forma php ci mettiamo anche questo riferimento a loro così viene tutto tracciato facciamo un insert for handling questo lo possiamo chiudere new mysql ok fa la connessione db prepare value e move quote ok log email tramite questa query noi possiamo andare fare e fare questo libri preparo ovviamente ci serve la connessione la connessione è identica a questa che possiamo anche condividere in un file separato con mysql dovrebbe essere con prepare con query ok quindi con prepare insert into per come mettere queste variabili bisogna capire un attimo come funziona le string sql si può fare in questo modo qua insert db name value e qua andare a capo insert db name non so perchè lo chiama db name ma esercizio 1 fatture giusto fatture il campo è il campo è noi stiamo continuando a chiamare questi campi con lo stesso nome però potrebbero essere comunque diversi questo è domicilio e residenza non è così immediato perchè comunque io so che il domicilio e la residenza sono dei valori testuali e poi questa è una stringa quindi bisogna porgli le doppie virgolette potete sconnettere la stringa anche qua in questo modo residenza e poi mettergli gli apostrofi questo direttamente prepare va a inserire questi due valori se io salvo e semplicemente aggiorno questo valore in questa pagina lui incomincia a inserirmi dei valori quindi io qua mi ritroverò già il valore no inserito andiamo a vedere lui non ha inserito questo valore avrebbe dovuto inserirlo quindi c'è un errore andiamo a capire qual è l'errore facciamo un dollaro sql uguale andiamo a vedere se la query è sbagliata facciamo print print r dollaro sql e poi facciamo exit così non continua a ricrearla ok inserinto valore milanetri s vediamo se funziona qui esegui la riga è stata inserita correttamente quindi sql è giusta il problema è con questa connessione vediamo cosa ci potrebbe essere di sbagliato prepare si manca l'esegui perchè lui prepara quindi prepara però non c'è esegui quindi questo query execute mancava la parte di questo quindi l'abbiamo sostituito con questo e prepara eseguit andiamo a cambiare dei valori quindi torniamo a inserisci nuovo torn poi ci mettiamo sempre mirano ci mettiamo via palermo in via andiamo a vedere se è inserito via palermo è inserito via palermo quindi cosa succede? questo è l'esercizio completo adesso si bisognerà impaginare e sistemare tutti i valori c'è una cosa che diciamo non mi piace molto che se io continuo ad aggiornare questa pagina lui mi continua a inserire palermo 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 questo è un blocco è un attimo un controllo dei dati che bisognerebbe fare però non mi sembra questo il tutorial in cui farlo io incomincierei nella terza parte a inserire tutti i campi e a formattare la pagina html bene allora adesso iniziamo a mettere tutti i valori che che devono essere inseriti tutti i valori che devono essere inseriti sono questi copia e si parte dalla index e incominciamo a metterli qua ditta residenza domicilio iva importo e numero il numero lo mettiamo all'inizio ok dobbiamo creare una tabella una tabella in html è fatta nel seguente nuovo table 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 t body t head ad th th per quanto sono th chiudiamo il t head apriamo il t body apriamo il t body chiudiamo il t body chiudiamo il t body e chiudiamo le table questa è fatta in questo modo qua tr tr th tr ovviamente ci sono dei metodi un po' più semplici di strutturare tutta questa parte tr th t body ci mettiamo numero ditta residenza domicilio serviva importo ditta residenza domicilio partita iva importo il t body lo facciamo generare ogni tr dal il while del php quindi possiamo mettere table e questo alla fine e qua inserire con tutta la nostra comodità il while che ci permette di stampare tutte le righe quindi facciamo echo tr 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 td 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 e cominciamo a metterci numero numero poi sono numero ditta residenza quindi facciamo tutta questa cosa un po' in modo sequenziale ho mancato un pezzo questo questo qua lo cancelliamo ok questo qua lo cancelliamo while è il loop for each cominci cominciamo a vedere cosa è cambiato torno alla home ho questa bellissima tabella con tutte le informazioni che ci servono la stessa cosa la stessa cosa andiamo a farla con il form il form di inserimento anche qua cerchiamo di fare un po' di copia incolla a due punti in input text ricordiamoci che il numero è quello che c'è il numero il campo è quello che veramente serve il numero adesso lo andiamo a escludere però mi serviva per partire ok il numero lo cancelliamo domicilio domicilio città possiamo riutilizzarlo residenza via anche questa possiamo utilizzarlo qua lo chiamiamo ditta partita IVA importo qua il texto possiamo mettere numero ok quando fa il submit quindi a welcome get questi li togliamo e scriviamo inserimento inserimento avvenuto con successo dr hr e qua la connessione la facciamo in questo modo non c'è più solo residenza a domicilio c'è c'è ditta presidenza domicilio partita IVA e importo che è numerico visto che non è dobbiamo togliere quindi l'apostofi query esecuto adesso io faccio insert form ditta test residenza via firenze domicilio milano partita IVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 importo 2000 faccio invia con norma fucce root main in riga 37 andiamo a fare il print r di questo e su quella perché ci sarà qualche virgola strana che sarà saltata inserito mostro sql facciamo esegui qui mi dice che c'è un errore di distanza vicino a value nella riga 1 c'è l'importo con la virgola guarda più importo non ci vuole la virgola quindi torniamo inserisci un nuovo form ditta test 2 via firenze bologna domicilio domicilio milano partita iva 0 1 3 5 6 7 8 importo 3000 facciamo invia inserito con successo adesso cancelliamo questo torno alla home mi trova il test via firenze non avevo fatto l'eseguit non avevo fatto l'eseguit facciamo ancora torno alla home test 2 via bologna avevo messo exit il printer SQL adesso che il form è completo gli diamo una sorta di stile a questa impaginazione per fare uno stile mi piace creative team bootstrap dashboard facciamo un bel live preview facciamo un'ispezione elemento anzi un visualizzo sorgente pagina andiamo a vedere quello che serve per il css quindi esattamente font and icon lo mettiamo in add l'add chiediamo il body e chiediamo lato tml nell'add incominciamo a mettere questi script questo asset due punti due punti è una cosa relativa quindi bisogna prendere e copiare l'indirizzo completo e già dovremmo vedere qualcosa di diverso poi in fondo c'è .js dobbiamo incominciare a mettere dentro alcune allora il jquery min si so che non serve però dobbiamo mettere e poi io ci metterei questo e questo core file ci vogliono anche quelli poi tanto è tutto asset e lo modifichiamo questi sono i core purtroppo sono parecchi script da mettere andiamo a copiarne uno copia indirizzo link e tutti gli altri vengono di conseguenza asset hanno comunque potuto salvarli tutti nella nostra nella nostro home andiamo a vedere se è cambiato un po' lo stile incomincia ad essere un po' più bello andiamo a vedere come un come lui gestisce queste ad esempio questa tabella ispezione lui dice ok facciamo un contenitore e una row quindi lui prima della tabella fa un contenitore generale un contenitore fluido ok row ecco e qua ci mettiamo per col md 12 il table il table dove finisce il table ci mettiamo anche questo però tutti al contrario solo per avere un conteggio ok comincia ad essere più allineato mentre la tabella lui fa table class incominciamo a farli class table over anti add warning poi vediamo se metto qualcosa altro tr th tbol è a posto card reader ci mette anche questo che mi piace di più avere un contenitore prima di table bisogna cercare di allinearsi bene che sennò si perdono tutti i riferimenti e questo incomincia ad essere la tabella di inserimento qua facciamo un insert form lo mettiamo sempre nella card invece di metterlo qua sotto questo si questo non serve metterlo tra il php però troviamoli un modo più simpatico per metterlo però troviamoli un modo più simpatico per metterlo quindi movale text center insert form possiamo dargli anche un po' di risalto facendolo diventare una specie di bottone facendolo diventare una specie di bottone no class uguale button ok insert form va alla pagina 2 anche questo lì mettiamo un po' di stile come abbiamo fatto con questo html nel led ci mettiamo queste parti andiamo a vedere come fa a fare un form ok questo qua è il form che viene utilizzato div class form un card body normalissimo ok 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 da dato io qui inserisco un form che è stato messo il card perfetto è il form no, perchè lui all'interno della, cioè lui praticamente, questo bisogna un po' sistemarlo ok, così mi sembra un po' più definito grazie ok, anche qua il pulsante per tornare alla home e così si può andare avanti proprio nel creare tutto lo stile di queste pagine per ora tutto, se dovrebbe andare bene così come prima parte dell'esercizio grazie 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 grazie